Benvenuti a questa settima video-lezione di Nihongo, la nuova serie di video sulla grammatica giapponese. Ciò che è importante studiare quando ci si appresta a imparare una lingua è sicuramente come saper bene pronunciare le parole. In questa lezione, dunque, studieremo la pronuncia della lingua giapponese. Visto il suo complesso sistema di scrittura e i suoi ideogrammi, è facile credere che imparare la pronuncia di ogni singolo giapponese sia veramente difficile. In realtà, la pronuncia del giapponese è abbastanza semplice, tuttavia c'è comunque qualcosa che è bene tenere presente. La pronuncia CH è dolce, quindi avremmo C, Cia, Ciò e Ciù, che si pronunciano come la parola italiana cena o cesto. La pronuncia della G è dura, come la G tedesca o come quella italiana della parola gatto o gara. La H è sempre aspirata. La J è letta come viene letta la G di gioco o gelato. SH La pronuncia di SH viene trattata come la nostra scena o shampoo. Z La pronuncia è dolce, come nell'italiano rosa, o più dura come zona, se messa a inizio parola. R Al contrario di quanti possano pensare che i giapponesi usino la L per rendere la R, in realtà la L nel giapponese non esiste e al suo posto viene usata la R. Se un giapponese, infatti, dovesse pronunciare la parola italiana LIMONE, direbbe RIMONE. U In SU e TSU la pronuncia della U è quasi muta e assorbita. In molte parole non viene neanche pronunciata. Ad esempio DESU DESU GOSAIMASU GOSAIMASU Però la U, come la I, non viene pronunciata neanche se si trova all'interno di una parola. Ad esempio YOROSHIKO ONEGAI SHIMASU YOROSHIKO ONEGAI SHIMASU SHITU REI SHIMASU SHITU REI SHIMASU Un'eccezione, infine, è la M, che al di fuori del composto sillabico da sola non esiste. Quindi non troverete mai in giapponese una M dietro la B o la P, come abbiamo in italiano in parole come bambino o campagna. Parole come TEMPURA o SHIMBUN vengono scritte con la N a precedere la P o la B e non con la M come accade in italiano. La N, infatti, potendo stare anche da sola, oltre che come parte di una sillaba, può benissimo prendere il posto della M vicino alla B e alla P. LE VOCALI Le vocali in giapponese sono facili da pronunciare perché si leggono esattamente come vengono lette in italiano. Tuttavia, possiamo ancora aggiungere qualcosa in merito. LE VOCALI Le vocali in giapponese possono anche essere raddoppiate e la loro pronuncia, di conseguenza, si allunga. Vediamo come ciò accade. A, I, U si allungano in A, I, U. La E si allunga in EI, soprattutto se si trova a fine parola e si pronuncia come se fosse E. Sensei, pronunciato senzae. GAKUSEI, pronunciato GAKUSEI, ricordando che la U non si legge nemmeno. La O si allunga in OU o in O. Le semivocali Esiste in giapponese una categoria di lettere chiamate semivocali. A questo gruppo appartengono la y e la w. La pronuncia della y è molto semplice. Si unisce sempre alle vocali a, u, o e forma le sillabe ia, iu, iò che si leggono come se si leggesse un oiato italiano, ia, iu, iò appunto. La w, invece, si accompagna sempre alla vocale a e alla vocale o, formando così le sillabe wa e wò. La sillaba wò può essere pronunciata in due modi differenti. Si può pronunciare wò distinguendo sia la w che la o. Si può pronunciare solo o dove la w non si sente nemmeno. Stessa cosa accade per la sillaba wà, che tra l'altro, se assume il ruolo di posposizione, viene scritta con il kana, ha, ma viene pronunciata wà. Particolari eccezioni Esistono in giapponese varie parole composte, nate dall'unione di due parole. Può succedere che la sillaba della seconda parola, nell'unirsi all'altra, venga negorizzata e cambia foneticamente la sua pronuncia. Ad esempio La variazione fonese di una sillaba è un fenomeno assai frequente in giapponese, che può verificarsi non solo in parole composte, ma anche in vocaboli singoli o particelle, che variano la loro consonante iniziale senza tuttavia cambiare il loro valore grammaticale all'interno della frase. Ad esempio PUNTEGGIATURA La ponteggiatura in giapponese è molto limitata. Le parole vengono scritte tutte attaccate senza spazi, perciò il giapponese non necessita di ponteggiatura o simboli che dividano i periodi in una proposizione. Possiamo però trovare in giapponese la virgola, chiamata TEN, che è come la nostra, solo rivolta verso la direzione opposta, e il punto, detto MARU, rappresentato da un cerchietto. Il punto esclamativo viene reso da un OTSU a fine frase, mentre il KA rende il punto interrogativo. Per saperne di più sulla lingua giapponese e sul Giappone, visitate il sito www.sakuramagazine.com Alla prossima! MADANE! MADANE!